Allora, siamo pronti? Prontissimi. Vado? Vai, vai. Pronti? Partenza? Via! Come è la pasta? Buona? Vai. Benissimo. Grazie. Credo che hai preso il cucchiaio? Certo, mi ricordo. Bellissimo. Comunque ragazzi, io non voglio di niente, ma Chiara mangia 1-2 mezze maniche alla volta. Siamo alla bellezza di 7 minuti. Vai Chiara, tutti noi, stiamo avanti alla bandiera siciliana, ok? Tagliati. Che stai, Catania? Tiracoli. Ragazzi, vanno con una bomba, guarda tutti i fotografi. Bene, tu stai, Catania. Pane. Quanto al pietra, Catania? E dai, a me. Chiara, questo è il tuo pane. Grazie, Catania. Prego. Vediamo un po' il tempo. Vieni, Catania. 14 minuti, ragazzi. Cosa hai visto? Ragazzi, ragazzi, bisogna pagliare il pano, eh? Vai. Allora, ragazzi, intanto la sfida è vinta dalla nostra Chiara in 15 minuti e adesso andiamo a vedere con la scarpetta, perché fa anche la scarpetta. Guarda, Chiara, che stile che fa la scarpetta. Grande, Chiara. Ragazzi, qua siamo andati proprio alla grande, eh? Vediamo un po'. 16 minuti e 40. Eccolo, l'ultimo porcone di scarpetta, ragazzi. Controlliamo bene, Chiara. Chiara. Finito. Azzeriamo. 16 minuti e 50. Si è fatta qui nella scarpetta. Grande, Chiara. Si è a posto, Chiara? Un docinio, dai. Ui, Chiara, io da buona siciliana ti ho portato. Tirami su al pistacchio. Regà, finito. Grazie, eh. Grande, Chiara. Numero 1.